Nel corso dei controlli finalizzati a reprimere il fenomeno dell'abusiva occupazione dell'arenile marittimo con attrezzature per la bagnazione da parte di locatori abusivi ai bagnanti, è di questi giorni l'operazione avvenuta nel Cilento su due diverse località, Agropoli e Palinuro. La Polizia Municipale di Agropoli infatti ha colto in fragranza di reato una persona di sesso maschile residente ad Agropoli dedita all'attività abusiva di locazione di attrezzature per la bagnazione. L'operazione effettuata venerdì scorso nelle prime ore del mattino è scattata dopo una serie di appostamenti effettuati in giorni diversi in cui il soggetto è stato ripreso ripetutamente con idonei sistemi di registrazione video in modo da immortalare l'attività illecita effettuata. Le indagini hanno consentito di accertare che lo stesso alle prime luci del mattino posizionava ombrelloni e sdraio sulla spiaggia libera in modo da assicurarsi i migliori posti in prossimità della battigia per poi locare le stesse attrezzature ai bagnanti. Ed ancora un importante intervento da parte della Capitaneria di Porto di Palinuro guidata dal comandante Amalia Mugavero per prevenire l'occupazione abusiva del litorale. L'attività ha portato al sequestro dei lettini posizionati abusivamente sulla spiaggia interdetta del Buondormire. La Baia, considerata una delle più belle d'Italia, è stata chiusa per via del pericolo di crolli dal costone roccioso sovrastante. Nonostante di vieti, molti continuano a sfidare le restrizioni per raggiungere la spiaggia e immergersi nelle acque cristelline. Alcuni hanno persino installato lettini a sdraio in disprezzo delle regole. Gli uomini della Capitaneria sono intervenuti ieri rimuovendo i lettini abusivi. Continuano dunque le attività dei militari della Guardia Costiera del Cilento durante questa stagione estiva per assicurare la sicurezza in mare e il rispetto delle regole.